Maledetto minuto novantatreesimo. I profeti già prevedevano una crisi atletica. Mentre loro teorizzavano, l'atleti lavora. Gol di Ramos, Maledetto novantadue e quarantotto. Perché hai distrutto il sogno di coloro che non si sono mai addormentati. Gol del Madrid, minuto novantadue e quarantotto. Sì, ma il giorno dopo neanche una lacrima. Solo più orgoglio e più voglia di vincere. Gol di Ramos, Maledetto novantadue e quarantotto. Sì, ma l'atleti è ancora lì, sempre più vivo. Ieri era la squadra povera, oggi è l'orgoglio di tante persone. Gol del Madrid, segna Ramos, minuto novantadue e quarantotto. L'atleti ha ricevuto un colpo mortale, ma sta morendo lottando.